Un blizzo della polizia tra Genova, La Spezia e Massa a Carrara per queste associazioni con finalità di terrorismo a carico di anarcho-insurruzionalisti. Questa mattina abbiamo sentito il direttore della polizia di prevenzione. Allora, gli odenni indagati, le cui responsabilità verranno accertate soltanto in fase processuale, fanno parte del comitato redazionale di una rivista quindicinale clandestina che è stato il principale strumento di diffusione del pensiero più radicale del movimento del gruppo anarchico che si riconosce nella sigla Five Free, sigla che riporta ad un'organizzazione terroristica che ha rivendicato numerose attentate, tra cui quello commesso nel maggio 2012 in danno dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. Si tratta evidentemente di un pensiero che individua nell'azione diretta indirizzata nei confronti sia di cose che di persone, l'unico o quantomeno il principale strumento per realizzare l'obiettivo finale di distruggere gli attuali assetti sociali. Grazie.